Ciao amici della pazienza italiana, bentornati! Oggi giochiamo a che cos'è con me, Silvia. Hello everyone and welcome back. Today we're gonna play Guess What It Is with me, Silvia. Vi darò degli indizi e voi dovrete indovinare di che cosa sto parlando. I'm gonna give you some clues and you will have to guess what I'm talking about. Appena sapete la risposta, scrivetela nei commenti. When you know the answer, write it in the comments. Troverete la risposta nella descrizione. You'll find the answer in the description. Ma non barate? Don't cheat! L'oggetto di oggi normalmente ha diversi pulsanti. Ne esistono di numerose dimensioni. Diversi oggetti ne hanno bisogno uno per funzionare. Ha a che fare con la tecnologia. Molti anni fa la televisione non ne aveva uno. Quello della televisione serve per cambiare canale e per modificare il volume. Che cos'è? Amici di Passione Italiana, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare like. Don't forget to subscribe to our channel and to click like. Grazie! 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 Grazie a tutti.